Sono Giulio Masotto, ho 20 anni, questo qui è il mio terzo anno al Ticolacaballà. Io abito a Verona, precisamente in un paesino chiamato Caldierino. Nella mia stessa squadra, nel Ticolacaballà, ancora è anche mio fratello gemello, però nell'Under 23. Ho una sorella di 23 anni, che studia medicina. Il mio palmarès, l'anno scorso ho conquistato una vittoria, sono riuscito a conquistare il titolo Ticolore Cronosquadre, sempre con la team Colpac. Sono un azzurro, faccio parte del team Pista. Quest'anno ho partecipato all'ultima Coppa del Mondo a Milton, sono riuscito a fare con il quartetto un ottimo secondo posto. Le mie caratteristiche sono di essere un passista, che comunque negli arrivi di gruppo sa dire la sua. Anche gruppi ristretti sono uno dei favoriti. I miei obiettivi per quest'anno sono riuscire a credere più in me stesso, a ottenere più vittorie possibili, ma anche riuscire a farne dei buoni risultati in corse non proprio adatte alle mie caratteristiche. L'obiettivo principale, penso come tutti, sia quello di approdare una squadra professionistica. E con Instagram? Con Instagram mi sto applicando, sto cercando di seguire un po' le orme di Pietro Ilarietti. Grazie. Grazie. Grazie.